Buongiorno a tutti ragazzi, qui su Darkest Dungeon per fare la boss fight della vecchia strega con un occultista, un abominio, un flagellante e una furia Così andiamo qui, facciamo un culo grosso come una casa, prendiamo tutto il cibo, prendiamo tante torce, prendiamo queste vange, prendiamo troppe chiavi Mettiamo tre, prendiamo un po' di erbe, un po' di queste, un po' di queste perché qua ci sono gli infami che buttano il blight Vediamo questo, prendiamo un'altra torcia per fortuna Ah scusi, ho già finito di parlare, potevi dirmi qualcosa di più Ah io avevo raccolto la roba per terra e dopo ho arrivato una tizia e ho fatto, e invitai le forme Va bene, nel senso da così, ok Va bene, allora vediamo dov'è la boss fight, la boss fight è, uno, due, tre, quattro, o è qua o è qua, non so, non so Adesso lasciamo tutto qui 50, 60, 60, 70, vai Vabbè Quanto dà, vabbè, dà poco di danno Poi dopo andiamo qua in fondo, mettiamo il boss, poi torniamo tutto indietro a recuperare tutti quanti i denari Ok, va bene, va bene, quello dà Bravo Avanti Quanta roba Beh è un bene in realtà che mi sono portato così tanta roba a presso in realtà Subito eh, cominciamo bene Va bene, va bene, finché mi stressi lui va bene, perché lui ha l'abilità di accampamento che fa meno 50 di stress, quindi ci sta Adesso fai, togli la schivata per favore, che ha 27.000 di schivata dopo, va a finire male ogni volta Adesso, vai così Dai, puoi scoppiare, scoppia? Ah Dai Ah, vabbè, fa tre Scoppia, allora, fai Tu metti Metti il bleeding Ok Tu Riduci questo Riduce la protezione Tu fai così E glielo metti bene Abbiamo un team da dev e jogger time Ok Dai, basta, per favore Ma non Ma non Ma che palle Adesso dovremmo cominciare a curare Che noia To Ma ho 18 Fantastico, curare, finito curare Potevamo essere anche più sfortunati e tipo rollare Due con sanguinamento, però va bene, dai Tu curati, critico Bravo, bravo E tu, non lo so, fai Fai uno stun Così per buon auspicio Dai Oh, la Guai è che tocca quello lì Bravi Perché se tocca quello lì Tipo ti dà un Un querc negativo È un casino dopo Ma i briganti Che cosa ci fate qua voi altri Oh, bravo Critica Critica, critica Ok Tu fai Tentacolacci Questo No, non è scoppiato Dai Palle Mi ha scrivato tutti tra lui che ha Spericolato Vabbè, ci stai In realtà Tu stunna lui Che se no poi fa stress a tutti quanti Tu comincia a mettere il blinding qua Questo stunnato Questi due scoppiano adesso Quindi facciamo di questo Così anche se fa un critico Poi tu fai così Comincia a copparlo per bene questo Quattro No Dobbiamo fare un altro colposi Ma poteva fare anche uno in realtà Un po' esagerato Sette In realtà Oh Oh, là Avanti 50 Puoi farla? Grazie Siamo usciti, infine Avanti, avanti Ok Abbiamo portato Tanto cibo Tanto Forse troppo Ma oddio Non si porta ma è troppo No, eccoli Eccoli infami Visto che abbiamo aperto La 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 cosa Come si chiama Il DLC Adesso ci sono sti infami qui Dai, muori È morto questo? Tre Ok, è morto Per fortuna Oh Questi non li voglio neanche vedere Guarda Sono una rottura di palle Se metti la Eh, bravo Schiva, schiva Schiva, schiva Schiva Mori Tu cura Potevi fare anche di meno, eh Mori Oh, là Cos'è questo? Più 4 di stasi Punti di felice Sono meno di 40 Fa un po' cagare Posso dirlo Fa un po' cagare Ehi Dov'è che sta La boss fight Sta qua la boss fight Sì Ok, stavo con il contro Non ho neanche visto Non ho visto Eh, vabbè Non ho visto Vabbè Con la boss fight è qua Ripeto Stavo controllando Se avevamo le banche Perché se no Tu fai così Bene Tu fai Eh Se la fai Ucciderlo Ma no Va bene Fai così Va bene Va bene così Chi è che marchia? Ovviamente Marchia quello Oh ma Non sono mica scemi Marchiano Marchiano Quello che sta Senza schivata Sono mica stupidi Questi Chiamali 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 scemi Questi fungaioli Dai dai Marchia Dai Critica Niente Non critica Gli garba così Non critica Porca vacca Però fa un botto di danno Dai Puoi buttaglielo Dosso Hola Critico fa Per 5 round Ma siamo impazziti Tu continua De baffare De baffa De baffa Poi non devono fare danno Questi qua Ok Lui va bene Perché ha la cura Quando è low Lui ha la cura Quindi ci sta Uuu Adesso faccio così Ah E mi curo Però ha il debuff Quindi Vabbè E magicamente Full di nuovo Adesso questo Scoppia Spero Ma come 4 No 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 Tu ce l'hai da morire Ehi che cavolo Oh la Che palle però Siamo già Senti Queste Queste robe Non servono Abbiamo abbastanza soldi Poi siamo in una boss fight Ci daranno soldi Allora Mangiate tutti Mangiate Prendete e mangiatene tutti Tu Preveni in boscate Tu Meno stress Tu Più 10 di critico Più 10 di critico E fai Potresti fare anche 25 Facciamo così Poi facciamo così Che muoviamo il debuff E siamo apportosi Bravi tutti Avanti 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 In realtà Vai Dai famolo Famo famo Questa strega di merda 66 Ecco Questa è la gimmick sua Mi diventa l'eroe in pentola Ed è una rottura di palle Però tanto posso fare così Oddio Sì Facciamo così Sì Sì Dai Ti metto lo stress No Che brutta cosa Tu fai così Tu fa danno Noi che tanto Noi due facciamo Riesce a fare sei No Fa così Lui tirerà fuori Il tipo della pentola Sperando il dio Che Prenda Gente diversa Sì ho capito Dai Via Vediamo chi Chi mira adesso Ok Ok Fai così No come l'ha schivato Maledetto infame Cura No Sette solo No Sette solo Ok Cura di nuovo Ma no Cinque Che palle Queste cose Ok lui mi va bene In realtà Così abbiamo tutti I nostri 3 dps A full regime Però l'ha spinto Il sanguinamento Con 20% Ah a 20% Di resistenza Questo qua a 110 Mi sembra un po' Una cagata in realtà Rimuovi il debuff Fai così Ah Oh che palle Vuoi mettergli sto bright Ha fatto critico Sulla pentola Fallo 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 di nuovo Niente Neanche per sbaglio Stiamo avendo dei roll Sfigatissimi In realtà Vuoi metterglielo sto bleeding Oh la Grazie Dio Ok Mi va bene Lui adesso esce E lui Lui e lo Quindi facciamo così Dai Ok Punto di morte Lui adesso Non Ok Tanto lei è morta Quindi Non è un problema Facciamo Facciamo così Perché vorrei curarlo In realtà Dai Mettili la cura E Ok Fantastico Abbiamo rischiato un po' Però ci sta Eh Glebroso Più danno Vabbè No no Continua Si continua Qua rischiamo però Di rimanerci Qualcuno Rieschia di rimanerci secco Qua però Dobbiamo stare un po' Attenti Adesso Il debuff Chi sarà mai Bandito Merda Ma cosa Cosa ci fate qua Cosa ci fate Facciamo Facciamo Chi curo 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 lui Va bene Va bene In realtà In realtà Non va bene Cura lei Ok 18 Vedi Adesso mi fai roll buoni Mamma Sto faccia da culo Prima mi faceva 5 4 Nella boss fight Mi sembra ovvio Entra Puoi critare Un'altra volta No Perché Grazie Adesso cura Di nuovo Adesso ammazza lui Che da fastidio Tu Cura Chi vuole Cura Cura così Hola Tu Tu Io ti stunno Perché dai fastidio Va bene Va bene 25% di resistenza Su 100 E passa Mi sembra Su 90 Ma comunque È tanto Vaffanculo 4 Più sanguinamento Va bene Non teniamo il sanguinamento Più sanguinamento Vabbè ragazzi Qua stiamo Sfociando nel ridicolo È veramente Stupido È veramente Stupida come cosa Puoi morire Per favore No I soldi mi servono Facciamo Uno Due E Togliamo Questo Tanto Adesso Adesso si Che servono i soldi Che torniamo indietro Codesto Codesto Si apre con Codesta chiave Che ci dà Buttali via Buttali via Che cavolo Ok va bene Forse dovrò Forse scarterò Uno di questi due Tanto Tanto Non è che sono Trinket Incredibili Cosa c'è qua dentro Ma fa sacco di soldi Eh sì Io li scarto Perché non dovrei Le bende Qua uno di questi qui Erano un tizio Un cadavere Con le bende Quindi Meglio tenerselo Ecco Ovviamente Ho buttato via Le erbe medicinali Che quello lì È la carcassa Che serve per il cibo Lo buttate via Perché Mi sembra Mi sembra più che normale In realtà Dai dai Andiamo avanti Cosa c'è dentro Ok Queste servono sempre Oh i cani I cani Cane maletto Allora Facciamo Facciamo così Eh 36 diritto Dovevi fare 3 dovevi fare No 36 Esagerato Come al solito È schivato Stunalo il cane Grazie Queste qua C'hanno un targeting Bastardissimo Che il target Ha solo quello Che ha più stress Ma sei infame Proprio Almeno non può Non può fare critico Non può fare Lo stress Ma ci mancherebbe Solo quello Guardate Che l'attacco stress Fassesse del critico Ci mancherebbe Solo quello Oh Eh queste Queste si attaccano Perché vado di qua Non c'è niente qua Infatti Non c'è un tubo Ok Adesso facciamo Tutto Giro In fondo Fino qua Raccattando su Tutte quante Le cose che abbiamo lasciato Senti toccala Chi se ne frega Che culo Che culo Due stack Cioè due Eh va 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 Sono una maledetto Infame di un gioco Proprio così Proprio così eh La prima tratta del cibo No No Di tanto No 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 Guai a te Che palle Adesso chi è che lo vuol fare Lo fai Fallo tu di nuovo Oh Dai Che bello Perché questa qua Non si deve mai Dire niente Per scontato C'è scritto 100% No non è vero Non è vero È 99 in realtà Questa non Guai a voi Chi la tocca Oddio Questa in realtà Potrei Non lo so in realtà Meglio lascio perdere Perché non mi ricordo Dovrei andare a vedere E non ho voglia Questo serve Questa Che dentro Ci sta Di soldi Ci sta Il dipinto serve però Però è solo uno Dai Maledetto Infame Guardate che qua Adesso si fa Tocca fare Lo starve Della fame Guarda che Porcheria Oh La 600 600 monete Da un cadavere Maledizione Quanta roba Senti Usalo tanto Se dobbiamo fare Lo starving Tanto vale farlo bene Fight con I cani Va bene Sono solo tre cani Dai È solo un dizionario Sono comico Eh Lasciamo perdere Guarda Fa il critico Adesso io Coppo questo Sì sì Ecco Sono un idiota Potevo Vabbè Facciamo 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 così Allora Esagerà Tutti che fanno il critico Guarda Quando non serve Vabbè Fa uno Questo Quello Debbaffato Questo è morto E scoppia Ola Maledizione Ma perché ci sono così Toccalo Eh Questo Devo portarlo Perché almeno Ci salva Da 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 una fame Quindi bisogna Per forza Non so perché ho portato le acque Che qua non salva niente Le acque Potrei buttare Qualcos'altro No in realtà Forse Forse le pale Potevo buttare Però Meh Allora Fai così Ok Fai così Che fai danno Maledetto Maledetto infame Ma vogliamo Mettere qualche status Grazie Che palle Cioè Con delle esistenze di merda Non è riuscito a mettere nulla Sembra giusto Dai Questo Adesso Coppalo Quanto va questo Facciamo così Si muore No come tre Maledizione Dai Ma quanto è lento Questo uomo Dai Per favore Cos'è questo Meh Che trinket Discutibili Proprio Veramente Sono trinket Discutibilissimi Questi E io non voglio Privarmi delle mie cose Cosa c'è qua dentro Ok Un po' di Un po' di creste Oddio Potremmo anche buttarlo Perché l'unico Spazio per Fare un controllo Della fame È qui Perché dove c'è Un cubo Un coso occupato Non può controllare La fame In realtà C'è la mappa Grazie Al massimo Mi può Coprire la stanza segreta Però che non c'è Cosa ci fai tu qua Perché ci sta Un scheletro qua Cosa ti sei perso Cosa è successo Io veramente Non ho capito Maledizione Ah si Adesso Adesso mi incazzo Però Adesso mi incazzo Adesso lui si deve incazzare Io adesso mi incazzo Cioè che cavolo Io adesso mi incazzo E faccio così Là Perché non si può Ogni volta Questa qua Stressa Stuna Maleditta 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 Tu cura Visto che non puoi fare niente Da lì Puoi fare Muori Oh Là Cioè che palle Si si colpi Colpi Manco riesci a biarmi Cioè Adesso adesso Uno si deve incazzare Sempre Perché questo Questo si sposta Va di qua Di là Mettetevi a posto Va Le torce le tengo Ma Anche le pale Servono Dobbiamo Altrimenti no Non toccate il cadavere Per favore Mi fate Ok Fai così Il blob Allora se questi qua Cominciano a spammare Cito cinesi Veramente Qua finisce male Ok Questo è morto E questo è morto Ok Perché se no Qua se fa Avanti indietro Avanti indietro Avanti indietro Non si finisce più Tu curati un'ostantina E tu scoppia male Oh Scoppia Scoppiare Mori Ok Questa è la palla Adesso non serve più Via Ok Cosa c'è dentro qua 50 Eh La palla mi sa che costava di più Però Siamo andati in perdita Va bene Meglio tenersi la palla A questo punto Però abbiamo fatto Un buon loot Quando abbiamo fatto Sette Oddio Di soldi non ho tanto Ma di Di cimelit Sì invece Allora cosa ci ha dato Qua No no Questo è terribile Questo qua Comincia a toccare Cioè No Cosa è Questo devo toccare No Non mi va bene Nulla Niente Guarda No no Non mi interessa Questo deve sparire Questo deve sparire Non ne pure vedere Cosa c'è 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 qualcosa da vendere Oddio Pietra della schivata Per 64 Anche no magari Se abbiamo qualcuno Ma dov'è Ma dov'è Dov'è il mio Cacciatore di taglia Non c'è Non c'è È sparito Chi lo sa Allora Vediamo se riusciamo A fare subito Vediamo si fare subito Qualcosa Dove sta Dov'è Ma io ce ne ho uno Di Di Ah 80 busti Sono un idiota Ho fatto 80 80 stemmi Mamma mia È ritardato Dai 20 28 Comunque ogni volta Che facciamo La Una endless mode Ci danno queste cose qua Che servono per comprare I trinket Questi trinket qua In questa In questa schermata Che l'hanno Un sacco Per qualche strano motivo Che ignoro Facciamo così Dai 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 così Anche se non serve Siamo a metà circa 49 Magari con questi Che tanto 53 Ok Adesso vediamo Cosa c'è da fare Dopo Io dovrei fare una Un'altra Questa Ma questa non serve Un'altra Oh Dove missione Lo stesso trinket Che cazzo Eh Questo potrebbe starci L'attacco Sì dai Faremo un giro Le rovine Quindi ragazzi Se il video è piaciuto Mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo A un prossimo video Ciao